Pesaglio taglia identificato, ingaggio autorizzato. Mi sa che sono quelli sull'elicottero Aspettami Yuri, aspettami Aspettami Vabbè che comunque non so se ne eravamo nessuno Si, vai vai Ma togli C'è un lanciatore qui Eh, tu vedi la corona gialla? No, sono andati via Eh, la colonna gialla è qua È qua Yuri, sono qua Mi muovo di qua Sono qua dei tubi Eccoli là Cazzo questa mitraglietta di merda Aspetta, ok Uno è andato di là In movimento Mi tocca andare via C'è anche gente allo shop Eh no no, è l'atto che ha fatto un po' il giro Eh, sono entrami là lo shop No Uno è qua Uno è qua Dai L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto Il bagno a terra Tornerà alla base Ci resti solo tu Fatti valere Cazzo in avvicinamento Yuri Pingami uno shop Che non sia quello Perché c'era un team che mi seguiva Ah ok Eh 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 Ah Ah Oppure Cazzo Sono nella merda Eh Eh Betta Betta Mostrami la mappa Vado su questo Ehi Prendo io Eh Mami è vicino al bunker Ostile in discesa nell'area Occhio in alto Kill regalata Spanno Non importa No è a terra Che buono Sono senza coraggio Porta Madonna Noo è la madonna Vinci questo scontro E torni in prima linea Perdi E per te E' finita Elimina Il Tritato 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 Te lo sei guadagnando Eh sì ho visto Non è l'intuato qua Che risposta Non si può usare questa roba Ehi Cassa di scorte Intituata Va recuperata No ma Ah pensavo che era Che mi dicevi che era Mi ha dato un po' Guarda qua Ehm Ehm Mi hanno sparato per non so che Vi vedi o dove sparo? Ah sembra una cosa così o meno Ah ok Mi hai dato un botto mi dici dopo eh? è dentro il pulma mi hanno colpito se vuoi qua, se vuoi venire qua che ti... adesso arrivo, arrivo, arrivo continuo a spararmi sto coglione sembra da solo perchè ce n'è alla zona sicura sono anche dietro di noi, Iuri al cecchino, al cecchino andiamo dentro andiamo dentro dov'è che sono? vedi io ah ecco l'ora in movimento madonna te hai i piastre, Iuri? io si me ne butti due corazza, qui dov'è che era? ah, i colpi dell'assalto, che io gli faccio il giro me ne dai un po' no, non sta a fargli il giro bisogna accamperare vai fila io ho il cecchino li tengo sotto tiri adesso più che altro sta attento che non arrivi in altro team da dietro di noi anche se io ora non lo vedo più per un altro obiettivo non ho trovato niente eh, non ho trovato niente eh, riusciamo ad andare qua, Iuri? da questa parte che è un po' più alto e anche non lo eh sì, sono due palazzi diversi ma guarda qua, io sono il setto guarda qua guarda qua, sono andato giuando gas in movimento, nuova zona sicura individuata allora, qua non li vedo sopra il tetto non vedo nessuno eh, io ruoterei tipo verso qua qualcuno può usare questa roba ecco di qua sotto dove? si sparano fatto, fatto, fatto che fucile avevano? grau eh, a x 50 gli prendo il grau uno quello silenziale eh, nemici a a 303 davanti, 45 metri ok, è 26 metri si si dove? 45 metri stanno andando anche loro aspetta, aspetta hai aperto te la cassa? si si verso dove sono andati? eh, sono qua dentro sinceramente in movimento ah ok e allora noi ruotiamo verso verso destra sono qua 40 metri 237 si stiamo dietro il muro hanno una macchina occhio cazzo pensavo che era più avanti no no, guarda no, guarda ci sono anche loro si si sono qua uno è alto sopra c'è un camion c'è un camion chi è che ha aperto la porta? oh c'è uno qua c'è uno qua cazzo 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 vado sul tetto ok ok, io rimango qua aspetta che faccio una granata qua mi sembra cazzo ah no cazzo ok, sono fermi che ci aspettano a terra cazzo 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 uno era sul tetto l'altro non so non è qua sul tetto occhio io vieni vieni da me non so dove uno era sul tetto devono uscire lascia loro là è da solo E' da solo Quanto è che hai i 7? 6 Vieni, vieni da me C'è la zona, c'è la zona Vieni da me, è veloce Stanno fightando qua davanti di me Ok, fai, mi ha invitato Bravo, bravo Eh, ci conviene passare per il cimitero qua Eh sì, ok Ok, è ok Siamo un po' scoperti, sì Eh dai, dai Aspetta che carico il fucile con dei fatti Gas in movimento, nuova zona sicura individuata Eh Io andrei e ruoterei per di qua Mi terrei a bordo safe E starei esterno e dopo saliamo No, quella là è fuori safe Quindi è impossibile Prendiamo la taglia per sfizio Lo lasciamo stare Vuoi vedere dove sono No, 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 no Ti stai sparando? Sono qua Fai figa, non so Uccidetelo Ah, 303 Guarda, guarda, guarda Vittato Chi maniicato Chi maniicato Era uno C'è un U a V Prendiamo lo sciocco veloci Ah no, è nato un ruolo Bersaglio taglia eliminato E' facile Vai, 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 veloce lo sciocco Prendiamo uno a V Prendilo e tiralo Io ne prendo un altro Sì, sì Tiralo U a V U a V U a V U a V U a V Ti servono corazze? Vuoi qualcosa? Eeeh Prendile No, no, le prendo io Le prendo io Vabbè, no, le copro anch'io Che ce ne ho le cose Ce ne ho nessuna mancatra Occhio, occhio che c'è il gas U a V U a V Nemico in volo Cazzo, siamo scoperti Iuri qua però Sarebbe andare la Sto andando lì Andiamo dietro Perché se quelli in alto Ci cechinano Ne restano dieci Continua così Gente, gente, gente Occhio, occhio Occhio su palazzo Eeeh Quale palazzo? Quello la? Sto andando lì Sì, dalla porta sopra Forse qua riesco a cechinare Quelli alti Se li vedo Non li vedo Occhio Gas in arrivole Alla nuova Sto andando la sicura In movimento Dove? In movimento Ok Ok, pronti a muoversi Corazzo, Iuri subito In movimento Capo Qui serve una ricognizione Dio voglio I cechini sono ancora Ok Eh, bisognerebbe andare Qua sopra In movimento Dove cazzo sono? Ah, eccoli la Stanno scendendo In movimento In movimento In movimento In movimento Zona sicura Zona sicura riposizionata Qua a me 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 Io salirei Io salgo le scale Aspetta Vado sul tetto Ah ci sono delle scale la Vado sul tetto Eh vengo anch'io Via via subito Bisogna andare Occhio all'altro team Occhio all'altro team Grazie in arrivo Il tetto è libero quindi? Sì Siamo nella zona sicura Preparatevi Sì Sì E' un'altra Sì L'altro è un'altra La terra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra A terra E' un'altra Dio caro Dio caro L'ho scrivato Porco Occhio 86 metri Tu di te praticamente 10 metri, due persone sotto di te, siamo rimasti in 5 sono senza munizioni cazzo Iuri non ho più niente di cosa? gas in movimento, nuova zona sicura individuata dammi assalto dammi assalto, dove sei? eh no portamele su, portamele giù, veloce gas in avvicinamento alla zona sicura vabbè uno è qua sotto, uno devo uscire vabbè sono un attimo uno è qua sotto, ecco sotto una siamo contro uno eccolo ! battamento di precisione avviato, attenzione è la Iuri gas in arrivo no!! vinto 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 facili facili bella ti ho detto che singolo per noi era meglio was bundes si è proprio What are you doing and we aim to do Grazie